Fumilari, Luca Giurato oggi, 13 settembre 2024, alla Chiesa degli Artisti di Roma, ubicata a Piazza del Popolo, vesco dottore morto a 84 anni di età per colpa di un infarto fulminante, vede dalla sua tanti personaggi del mondo della televisione che proprio in questo momento sono presenti in quella famosa Chiesa, la Chiesa degli Artisti, che spesso e volentieri viene utilizzata come Chiesa per celebrare i funerali dei più importanti personaggi del nostro Paese, l'Italia. Tre personaggi che non mancano ovviamente c'è Mara Penier, i personaggi fulcro che hanno conosciuto il grande Luca Giurato, possiamo non inserire ovviamente la meravigliosa Caterina Balivo, insomma Gireti, tutti quanti quei personaggi che per quanto riguarda la TV l'hanno, diciamo così, conosciuto veramente molto molto bene e hanno lavorato in sua coppia. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, è una cerimonia ovviamente stretta nel massimo del riservo, ma al tempo stesso è una cerimonia dove la chiamiamo la funzione, la centralità principale, quella della televisione, che è il mezzo principale per l'eccellenza della comunicazione, ma è anche il mezzo dove abbiamo un personaggio grande come lui che purtroppo non c'è più. Grazie a tutti, questo video non vuole vedere la frase di Luca Giurato e della famiglia, ma guarda sono informati stop, nasce solo per questo motivo e non per altri motivi. Luca Giurato, riposi in pace. Grazie a tutti.